ciao questo è un nuovo video che di solito che faccio sui film che riesco a guardare e che mi sono andato a recuperare un film di martin scorsese che anche se risulta marei già uscito marei da qualche anno nel mondo marei del cinema ma sono riuscito solo solamente ultimamente magari a guardarlo anche se era tipo un nome di film magari che avevo già sentito ma lo sono andato a recuperarlo come film anche se magari come film come si dice è uscito male nel 95 come film magari nel in america e ha riuscito ho visto che è uscito nel 95 però logicamente come magari tutti i film magari americani ora che magari arriva in italia può passare quei due tre qualche mese quei 24 mesi al massimo che ho visto che in in italia ea che l'uscita marei al cinema in italia è stato nel marzo del 96 questo film di casino di film marei di martin scorsese che li volo dedicare magari questo un video dedicato proprio a questo film che anche se due a quelle tre e quelle tre ore di film quei cento qua e poi si dice quei quei quelle tre ore di film e quelle cito 157 78 minuti due ore 58 di figlio quelle tre ore di film però anche se può essere male o e confronto ma lei ad altri un bel un po lungo come come film però essendo se è un amore di quei film che sicuramente magari non è uno di quei film magari che anche si dura tanto ma è tipo stancare a guardarlo perché essendo mai di un amore tra ma non così ma è complessa o complicata queste tre ore magari da una parte ma reti possono anche un po per dire piace un po volare da una parte poi film e resta sempre bello dopo visto che magari mettendo sempre attori che capaci magari di entrare magari un po nella parte proprio dei personaggi così che ho visto che anche il cast dei personaggi degli attori che ci sono ha sempre messo mai attori magari conosciuti come deniro giobesci e c'è anche magari anche maria anche charleston e anche maria io era illiota che in a e che sono sempre magari attori che con con le martin scorsese hanno provato magari già lavorare con altri film con altri film che anche se come stavo dicendo mai prima che anche se due altre quelle tre ore magari di che... fiume che... come film che un po e va via liscio magari il il film queste tre ore magari di fiume che parla più che altro di questo Sam Royston che è questo al libratore preferito del boss di Kangan City che viene nominato direttore di un casino a Las Vegas che si innamora proprio di una prostituta che sempre da lei riesce ad avere Mare anche una figlia e Mare viene presa da questa prostituta che talmente Mare si innamora da questa prostituta che fino al punto che Mare alla donna va a depositare quei 25 mila dollari al suo nome che come film ho visto che è fatto come anche come scene e Mare ne trovare Mare anche gli attori giusti Mare nel compresso ho visto che è molto bello che a saperlo Mare anche prima me lo andavo a guardare Mare e me lo andavo Mare anche a recuperare Mare come film è molto molto tempo prima e prima che come come film e che come film e ho visto che è molto e molto bello essendo Mare del 95 però ho visto che Mare può dare può sempre restare uno di quei film Mare migliori Mare con foto a certi che che stanno Mare usciti anche ultima Mare anche ultimamente che Mare come come al solito quando faccio questi video sui sui film Mare lascio sempre in descrizione e video tra il cast degli attori che hanno collaborato e anche Mare si riesco a qualche informazione in più e anche Mare anche la trama proprio del film che ho visto Mare anche nelle recinzioni che si può trovare in giro di quelle che ho letto sono tutte positive quelle che ho letto su questo film dopo essendo Mare anche fatto bene anche Mare non male che si trovano Mare recensioni solamente positive e niente quello che Mare potevo mai dire Mare su questo film Mare l'ho già detto e niente anche a andarselo Mare a recuperare Mare anche adesso lo si può trovare Mare tranquillamente su certe piattaforme che se uno ha qualche abbonamento su qualche piattaforma lo si può andare andarselo Mare a recuperare anche gratis che certe piattaforme ogni tanto mettono qui quel film e quei certi film gratis da guardare che volendo Mare lo si può andare andarselo Mare a recuperare è facile Mare a recuperarlo anche adesso come film e niente quello che potevo Mare dire su questo film Mare l'ho già detta e niente che al massimo ci vediamo sicuramente Mare più avanti con i miei soliti video che porto Mare sul mio sul mio canale e niente per adesso per adesso Mare vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao